Iniziamo subito, attenzione, iniziamo subito perché questa sera questi codici ci interessano particolarmente. Perché te le votiamo! Te le votiamo assolutamente. Questa è la vostra scheda elettorale, cari italiani all'ascolto. Prendete nota dei codici, informiamo ai telespettatori che i clienti di Wind 3 e Poste Mobile non potranno però esprimere la propria preferenza a causa di un problema tecnico a carico degli operatori. Quindi questo ve lo ripeteremo. Questa è una comunicazione che va ad essere al Ministero degli Interni, quindi mi raccomando è stata una comunicazione molto seria. È chiaro che bisognerà riformare anche la legge elettorale del televoto dopo questo inconveniente. In ogni caso sono qui davanti a noi tutti i codici del televoto e vi ripeto prendete nota perché ci siamo questa sera. Possiamo prendere parte in maniera molto attiva questo Eurovision 2018. Questa sera conosceremo gli altri dieci finalisti, giustamente stanno ricordando queste splendide donne alla conduzione. E ne facciamo secchi altri nove, no? E beh sì.